buongiorno a tutti sono Enzo Iacchetti e questo è un video molto importante non tanto per me ma quanto per tutti quei siti pieni di ignoranti che da sette anni a questa parte continuano a pubblicare ogni due mesi ogni tre mesi ogni mese che io sono un ludopatico e mi sono rovinato non ho più una lira perché mi piace fare le scommesse clandestine allora io so che i miei fans non crederanno mai a una sciocchezza simile ma voglio avvertire siccome sono una persona buona e gentile tutti questi siti che non avendo nient'altro da da scrivere sul web si inventano queste cose qui voglio dire a loro che ho già fatto due processi e li ho già vinti con dei siti online che hanno scritto la stessa cosa e che tutti gli altri tre che ancora insistono nel dire questa notizia disumana perché potrebbe anche far perdere la pazienza e potrebbe anche danneggiare la dignità di un uomo serio come sono io che fa un mestiere e lo fa seriamente i siti coerelati ancora oggi sono tre compresi l'ultimo che ha pubblicato questa nefandezza smettetela vi prego perché vi giuro che i primi due siti che hanno perso le cause hanno pagato un sacco di soldi e probabilmente uno dei due non riaprirà neanche più gli altri tre che sono adesso in ballo probabilmente scompariranno perché non avranno i soldi per pagare la mia ragione ormai le fake news è giusto che le dovete pagare quindi volete rovinare una persona perché vi sta antipatica prendetevi tutte le vostre responsabilità io con il sorriso e i miei avvocati stiamo aspettando soltanto che voi paghiate per quello che fate in modo tale che possiamo fare del bene per le persone che ne hanno più bisogno ok andate avanti così sì sì dite che sono un ludopatico forza bene c'è l'intestazione del vostro sitino e arriva la querela nel giro di 48 ore grazie 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 furbacchietti